Bentornati raga, oggi quarti di finale, iscrivetevi al canale subito per cominciare con il botto Quarti di finale contro una squadra che abbiamo già giocato, abbiamo vinto credo 6 a 2 Abbiamo fatto una goleada incredibile e abbiamo preso anche due gol Ho fatto un'altra popera nell'ultima partita quindi oggi magari sono un po' sotto tono Poi è arrivato lo sponsor dietro la maglietta Allora Toma, quanto vinciamo oggi? O perdiamo? Quanto è il risultato esatto? Io dico 4 a 1 ma non dico per chi Diciamo che 4 a 1 per noi, oggi è tosta Loro sono passati come secondo a miglior terza e hanno affrontato la miglior prima di tutti i gironi che siamo noi Partita molto combattuta, molto difficile Adesso andiamo in campo e cominciamo Però prima voglio parlarvi di OneFootball Come detto prima di continuare con il video volevo parlarvi di OneFootball La miglior app calcistica sul mercato Vi lascio subito qui il QR code per scaricare l'applicazione È veramente tanta roba Però concentriamoci un attimo qui sul calcio mercato Juve incontro con Pimenta finito Le ultime su Poboy rinnovo dell'IQ Io voglio aprire e andare a leggere tutte le notizie Grazie a OneFootball Saremo sempre aggiornati tutto all'ultimo secondo Quindi in questo momento, all'ultimo secondo vedo l'aggiornamento su Polpo Pogba addirittura qua si parla dei video Pogba vuoi essere allegri Chissà se un giorno Pogba tornerà a giocare a basket come mi sarà allegri Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Se è probabile, non so In più, se noi andiamo a vedere le partite Possiamo vedere tutte le partite che vogliamo Possiamo vedere anche le partite in live Eccetera eccetera OneFootball, essendo anche la miglior app calcisca in tutto il mondo A 100.000 recensioni positive che trovate qui una dopo l'altra E ragazzi scaricate, la vi ricordo come sempre, il QR code Oppure il link in descrizione per scaricare l'app Io come potete vedere anche da qui l'app ce l'ho sempre scaricata Perché è veramente tanta roba E questo calciomercato sta diventando molto pazzo Quindi scaricate tutti le applicazioni E noi continuiamo con questa super partita Che speriamo di portare a casa per arrivare in semifinale Andiamo, andiamo Del torneo, del decimo torneo Poi Cassini Nuova A remorio di Gianni Reccani, Tremolada, Restriere, Tomalena 2004 Lomonaco, Vangarda, Ducolo, Timi Lontano, Vangarda, Ducolo, 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 Ducolo Grazie Prodicolo,rire, ducolo, 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 Ducolo Suona seconda 'sì, suona linea, challenges ふie Vie o pew Questa ferita Questa ferita Oh, Timi scendi qua Ok, torno! Bacchua! Sì, la mia scoppa è già finito! Anche le tere! Bacchua! 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 Mosaune就是 Kifi! Bacchua! Bacchua! ativa! 它是数が低! iniz! bacchua! Bacchua! 淆滚 3 Signal 선 Ti metto! Ti metto! Ti metto! Vai con me! Oh! Ti metto! Ti metto! Va con me! Ah! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Siamo in vantaggio 1-0. Abbiamo un passo dentro la semifinale. Loro però non mollano perché dopo la sconfitta è per 6-2. Voi in vantaggio 1-0. Abbiamo un passo dentro la semifinale. Non rifarsi. Siamo solo 1-0. Non dobbiamo prendere gol perché queste partite dentro fuori basta una virgola per uscire oppure basta una virgola anche per continuare. Adesso dobbiamo non difendere il risultato. Dobbiamo attaccare e fare più gol possibili per stare sereni. Ho fatto una bella parata. Quello conta poco. Mi sto rifacendo anch'io dopo l'errore passato. Adesso torniamo in campo con molta voglia, molta grinta per andare a portare a casa questa semifinale. E intanto per portare a casa questa semifinale iscriviti al canale Road to 300.000, mi raccomando. Ti voglio bene se lo fai. Un bacione e andiamo in campo come volo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.